Ma ricordiamoci nel passato... Ah beh, tu come al solito la vuoi girare? Ma certo, il passato lo tiri fuori solo quando fa comodo a te che devi attaccare Ida. Ricordiamoci il passato vostro quando stavate al centro studio e vi siete accusati a vicenda di complicità. Le peggiori schifezze ti ha detto Roberta, le peggiori schifezze. Perché Roberta mi ci trovo bene. Le peggiori schifezze ti ha detto Roberta, le peggiori... Devi tacere adesso. Sai perché siamo qua tutti e due? Lo sai perché siamo qua tutti e due? Perché ci è stata data una possibilità. Io adesso non capisco perché la state girando. Le peggiori schifezze. Se ce l'hanno data loro la possibilità, tu perché devi ancora parlare e tu poi soprattutto. Che tu non ti farei tanto santa, Roberta. Perché a qualcuno non è interessato quello che io ho raccontato. Ma tu non sei diversa da nessuno. Le peggiori schifezze. Non sei diversa da nessuno. Perché altrimenti il discorso che mi hai fatto... Lei ha accettato di tanto. Il discorso che mi hai fatto, che ti ho guardato dalla televisione. Ida, tutte e due così non è possibile che possiamo parlare. È pazzesco. Tutte le robe che ti ha detto. Solo una che crede di essere un personaggio pensa che è una storia di quattro anni. E uno che ti chiama dopo una storia di quattro anni, ti chiama perché ti ha visto la televisione. Sei ritorno a maggio. Ce l'ho fatto. Sei ritorno a maggio. Bisogna gridare. Ti ha detto le peggiori schifezze. Uno davanti all'altro. Addirittura adesso ti ha fatto divertire se sei stato bene. Qua siamo tutti uguali. Ma tutte quelle che abbiamo sentito su di voi, tu stai a pensare a quelle mie. Grazie. 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 Grazie.